E' stata riattivata la fontana ornamentale del Tritone in piazza Cavour, inattiva dal 2015. Sei mesi fa all'inizio dei lavori che hanno portato all'impermeabilizzazione della vasca e alla sostituzione degli impianti elettrici, idrici e dell'illuminazione, con 18 poiettori a immersione che riproducono diversi colori. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 48.500 euro. Come ha ricordato l'assessore con delega al verde Luigi Felaco, è una delle 15 fontane storiche oggetto del piano di rifunzionalizzazione, in stretta collaborazione con l'azienda idrica partenopea ABC Napoli.